Questa è la seconda di oggi Giuseppe vedi che siamo un secondo fermi Siamo fermi io, Alfio e Nino Tu ci devi dire perché siete fermi Non per un motivo qualunque Guardate come potete vedere La macchina di Andorio Casella Sì, guardate Un bel cavo Ecco, bravo Piano piano, piano piano Inserisci i blocchi Inserisci i blocchi Come potete vedere Guardate Ok Ma vedrai nessuno vedrai Sì, ma se non c'ero io dove ti accroppavi Se non c'ero io Ti attaccavo con l'angora da sabbia Ehi fammi vedere l'angora da sabbia Sì, vieni fuori Sì, vieni fuori